Dopo 13 stagioni al servizio del Bologna, come è stato passare in un club con un respiro completamente diverso e che esperienza è stata l'anno passato a Roma? Esperienza assolutamente saltante, assolutamente piena di stimoli, mondo diverso, non tanto per l'esplettamento della mia professione, ma piuttosto per l'aver visto aspetti gestionali completamente diversi da quello che può essere la dimensione di una società medio-piccola quale il Bologna, spero che cresca, però nel momento della mia partenza era sicuramente quella la dimensione. Tornare a fare lo studente a 51 anni è stata un'adrenalina stupenda. mi ha fatto rinnamorare proprio della vita che va vissuta in ogni suo aspetto, della voglia di crescere, della voglia di confrontarmi con altre dimensioni. L'ho potuto fare grazie alla disponibilità della mia famiglia e non è un proforma, ma lo devo dire perché chi è rimasto a Bologna si è sobbarcato il doppio del lavoro della quotidianità e mi ha permesso di vivere questa cosa meravigliosa che porterò sempre dentro con grande simpatia, con un ricordo tra i miei più positivi. Che termina però con un bellissimo ritorno a casa. Se penso alle otto brate romane e all'immagine adesso di questo clima mentre stiamo facendo questa chiacchierata sicuramente mi viene ancora voglia di andare a Roma, però casa è casa. A un certo punto dell'avventura mi mancava il mio divano, le mie abitudini, la mia casa, gli amici, il bar, tutte le cose, le banalità che si possono dire. Posso dire semplicemente che non sono banalità ma sono veramente l'essenza della serenità e della tranquillità di un uomo. Che Bologna hai ritrovato dal punto di vista innanzitutto societario dopo un anno di esilio, quindi che cosa ritrovi tornando a casa? Trovo soprattutto il gusto di partecipare ad un progetto. La progettualità penso che sia la molla per far scattare ognuno di noi la voglia di essere più propositivo, più positivo. Tanti amici di Sponda Giallo-Rossa che ritroverai sabato, però nessuna pietà perché il Bologna ha bisogno assolutamente di una partita importante. Mi hanno sempre insegnato che gli amici devono godere delle gioie altrui, sono contento per loro per tutto quello che stanno vivendo, saranno contenti altrettanto loro se gli diano la paga. Grazie. Grazie.